dogliani maggio 2018 festival della tv e dei nuovi media lilly gruber intervistò carlo de benedetti che fece una personale panoramica della politica del momento parlò anche di Matteo Salvini disse che era il peggio e bollò come antisemita e xenofobo Salvini presentò querela e stamattina a Cuneo è cominciato il processo per diffamazione il giudice Emanuela Dufur ha ascoltato i carabinieri che trascrissero l'intervista per conto del pubblico ministero Attilio Hoffman sia l'imputato che il leader della Lega costituito parte civile non erano presenti in aula Salvini ha fatto valere un impegno politico come legittimo impedimento ora è atteso per la prossima udienza